Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è un video che in realtà non avrei dovuto fare perché pensavo di essere stata chiara nel video precedente in cui vi parlavo appunto sul perché e per come attiriamo persone tossiche. C'è stato qualcuno di voi, anzi parecchi di voi che hanno capito altro, cioè nel senso sul perché io, io, proprio io, attiro persone tossiche ma avete detto, ma no, non è vero, tu attiri anche brave persone, invece il senso del video era un altro perché spesse volte appunto ci troviamo a farci tutti delle domande del genere su perché proprio a me è capitato di aver avuto a che fare con persone tossiche però non era per forza di cose una cosa mia personale, era un qualcosa anche per voi perché magari spesse volte io ho sentito appunto delle persone dire eh ma io ho avuto quattro relazioni con dei narcisisti perché è capitato proprio a queste persone però magari ad altre no anzi ci sono pure persone che per esempio si fidanzano una volta sola nella vita li va bene, si sposano, cioè hanno pure dei figli con quella persona quindi perché magari altre persone devono tra virgolette stare male perché magari vengono attratte da persone potenzialmente tossiche era quello il senso, non parlavo di me poi c'è stato chi praticamente mi ha detto ma tu hai parlato del tuo ragazzo con il quale hai avuto una relazione tossica per anni allora vuol dire che non hai ancora superato assolutamente no, io l'ho superata sta cosa ho superato tutto quello che lui mi ha fatto nonostante tutto, nonostante che sono cose brutte però il problema è che ovviamente dovevo prendere appunto a titolo di esempio qualcosa per farvi capire meglio e quindi mi sono basata anche sulla mia esperienza però non significa che io diciamo diciamo che sto ancora male per quella situazione là perché assolutamente no, io sono tornata a fare la vita di sempre come sapete io mi sono anche rifidanzata con un'altra persona quindi se non avessi superato non avrei neanche diciamo dato la possibilità a quest'altro ragazzo che poi come sapete le cose tra di noi non sono andate e va bene però per farvi capire per farvi capire bene perché se io stavo ancora tra virgolette scossa non davo la possibilità a un'altra persona di diventare il mio ragazzo assolutamente no anzi io stavo alla larga perché dopo quello che mi è capitato parecchie persone mi hanno detto adesso stai attenta perché perché ovviamente sono successe cose troppo gravi questo è soltanto un video per informarvi perché parecchi di voi non l'hanno capito e mi dispiace quindi è stato più un video diciamo di aggiornamento e quindi è tutto e quindi è tutto